Puntata 148 di G-Style con Stefano D'Alberto che vi illustra quello che sarà il tema della 150esima puntata realizzata all'interno di un'imbarcazione straordinaria, la Celebes, dove vedremo delle immagini straordinarie. Quindi iniziamo a incuriosire i nostri telespettatori. G-Style che tra l'altro spesso e volentieri si affaccia all'arca per eventi importanti come quello dedicato alla musica rockabilly. Siamo stati con una cover band fantastica, la prima quella dedicata a Johnny Cash. Sono stati ai nostri microfoni ma non solo loro ma anche tantissime delle attività presenti all'interno di Arca di Spoltore. Con noi anche una serie di interviste, tra queste anche una realizzata all'interno del Molino nella serie di Giulio Gennari con Marianna che salutiamo per il primo compleanno dell'attività di Nail City. Un altro importante workshop con Olga Robba e noi come sempre con G-Style abbiamo avuto qui nei nostri studi i partner commerciali che hanno seguito e hanno dato una mano importante per gli amici di Emozioni in Movimento e per il loro spettacolo. Tra le tante nostre interviste anche quella con gli amici titolari di Divertilandia, due sedi, una Francavilla e una Pescara proprio qui a Porta Nuova parleremo di questa attività dedicata tutta ai bimbi. Quindi buona visione con G-Style.